La palazzina di Al-Katala era una miniera d'oro. Abbiamo trovato il lupo. Il portatile ci ha condotto all'ospedale Ramasa in Nuzikstana. Crediamo che il leader di Al-Katala sia lì. Le truppe di Farah monitoreranno i terroristi all'ospedale, mentre una squadra di terra di Marine avanzerà sul complesso. Eko-3-1 catturerà il lupo per interrogarlo sul gas russo rubato. I soldati confermano che l'ospedale è sotto sedio. Al-Katala sta sfruttando i civili come fossero scudi. Proteggono qualcuno. O qualcosa. Più scopriamo... Via libera, Farah. A dire il mio cecchino migliore. Conta pure su di lui. E su tutti gli altri. I Marine vogliono un po' d'azione. Guideranno l'assalto. Ti ho detto che avremmo aiutato. E sei di parola. Non è per quello che lo faccio. Per gli invasori del mio paese, la vita umana non ha valore. E il gas uccide tutto. Anche il cibo che coltiviamo. Chi usa queste tattiche è mio nemico. Nessuna eccezione? No. Al-Katala ci ha rovinato la reputazione. Abbiamo pagato cari i loro crimini. Il lupo va punito. Farò in modo che tu sia all'ambasciata durante la consegna. E tu? Dove andrai dopo tutto questo? Ovunque mi manderanno. Non puoi scegliere. Non proprio. Riposa. Domani sarà dura. E tu e i tuoi uomini? Saremo qui fino all'alba. Copro l'angolo sguarnito. L'ospedale è in fondo alla strada. Mezzo chilometro. Io vado insieme ai marine. Ecco 3-1. Sergente Griggs. Ce l'hai davanti? Chiamami Alex. No, niente locali. Non decido io. Sei Karim? Ce l'hai davanti. Bel lavoro contro i russi. Amici e nemici in comune. E tu fai? Non c'è che non arriva. Passiamo Alex. Demon Dogs. È ora di scatenare il caos. Avremo tutti i bersagli che vorremmo. Occhio alle finestre. Qui è difficile distinguere amici e nemici. È tutto un casino. Seguiti il blindato e state vicini. Edificio blu. Ci accorto piano. Può versi. Può versi. Avanti. Arriba un brinco. Occhio alle finestre. Nato. Ci sono posizionati sui tetti. Non c'è niente. Voi essere! Voi cosa c'è? Voi cosa c'è mia? Vai, c'è! Dove sono? Come sai? Distanza drittamente! Ok, ha visto! Voglio lanciare! Voglio lanciare! Allora, lo faccio! Ecco! Piano terra, libero! Attenzione, trappole sulle scale! 3-1, vado al primo piano. Inizia molto, 3-1. Outro. Vado al secondo piano. In piano del bricacchetto. Aspettino 5-1. Libero. Ricevuto. A tutte le unità, raccruparsi al comboglio. Timon 1-2, Arred Hammer 7. Le truppe che difendono l'ingresso sud dell'ospedale ci tengono sotto tiro. Serve supporto aereo immediato. Basso. Il ritaglio agganciato. Ora vi tirate. 3-1, non vieni all'aperto. Marino, fermi, fermi. C'è un attacco in corso sopra questo sentito. Muoio un po'. Loggi di extra, 3-1. Attenzione! Grazie, per l'altro. Damone 1-2, Arred Hammer 7. Bersaglio distrutto. Vettore libero. Ripeto, vettore libero. Damone Dogs, via libera. Adesso potete scatenare. Ura! Passeremo dall'atrio dell'ospedale. RFC. Sì! Uno è allo scoperto! Grazie si sono nell'ospedale muoversi muoversi marcia a tutte le unità atrio sicuro nessuna traccia del lupo timon a caccia griggs prendiamo quel pezzo di merda ricordati che ci serve vivo 3 1 ricevuto cazzo non si sa chi suonare ehi cofritemi ricevuto a nord uno si ruota a nord uno si ruota a nord uno si ruota chi è subito chi è il sottosione iscritta è copertura il movimento Movimento! Contatto visivo! Per te! Vuole sì! Via! Colpito un messaggio! Vuole sì! Via! Ricevuto! Si serve a copertura! Contatto! Angolo Nord! Scalto! A tutte le unie! Procede al primo piano! Nessuna traccia del lupo! Vogliono tenerci lontani da qualcosa! Poco ma sicuro! Le mani su! C'è buzza di imboscazio! Non fatti male! Controlliamoli! Tutti qua! Cazzo! Sì! Seduto! Dimon tre, qui uno due! Mani in vista! Vai avanti tu tre uno! Ho sparato! Sì! Andiamo! Via! Al riparo! Dovevi! Lo strontano! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Niente, sergente. Continuiamo. Recevuto. Pronta. I tuoi uomini non ti salveranno. Sei stato mandato qui per uccidere, ma tu morirai a causa dei vostri continui bombandamenti e delle guerre per procura. Cosa vedi? 3-1. Ravio. Lupo confermato. Tre marini nostalgia. Li ucciderà. Li rompiamo. Porca puta. Passa da dietro. Io entro da qui. Alex, la finestra. Devi fare il giro. Ho capito. Porta, davanti. Riggs, entriamo. State pronti. Fermi. Timon, pronti? Prendi quell'animale vivo, Alex. Non sparargli. Stendilo a terra. Libero! Tranquillo, fratello. È tutto a posto. Stai bene, Alex? Sì, Griggs. Omar Sulaman. Sei sotto la custodia di questa squadra speciale. Fa esattamente come ti dico. O sei morto. Cazzo sì. Squadre Dimon, i marini sono al sicuro. Lupo catturato. Portiamolo all'ambasciata.